e parlo faccio un filmattino guarda il griglia guarda adesso come dite pure quello che volete dire tanto registra un po fai anche quel foto lì per quella roba lì non so dove siamo registra anche il video se questo non sta facendo il video e in più registra anche se allora metti di sit c'è anche il popolo passaggino e la miseria proprio adesso questa e la zizza comunque le bocca antincendio sono solo qui all'inizio sono tre però tutti gli altri caseggiati sono senza bocca antincendio quindi se da altre parti succede un incendio di lì con quelli a sticcolino non ci fanno niente ciao niente